apprezzato dagli uomini e amato dalle donne Ayrton pur dipinto con un misogeno tutto preso dalla sua passione per la velocità ha comunque mietuto successi anche nelle alcove rapporti spesso fugaci quanto quello che lo ha unito con la bellissima Carolina adesso però con Adriane al tuo fianco le tue ammiratrici possono metterti fuori in pace io sono felicissimo ognuno avendo una vita come abbiamo noi brasiliani girando il mondo con la formula 1 qualche volta merita anche di calmarsi un po e con convidi condividere con una donna in speciale un po della nostra vita e io sono felice